Cazzella 11 in zona Termine, Pantera 15 in zona Montecitorio Asciuta tutta la notte Cazzella prima di dare scimmietta Un po' di musica leggera non c'è, non c'è Gimfondano, Pechino Pechino? Un po' di caffè Che? Il caffè mamma ci metto un giorno e mezzo per farlo Un giorno e mezzo per farlo? Un giorno e mezzo è una delizia Sai che categoria di caffè che è? Prova, prova Mmm, che schifezza Ma che c'è messo dentro? Un segreto Questo appena lo ingugiti, subito ti torna su Questo fa vomitarlo Puu, te, tua mamma e tuo caffè Puu Puu